Al pianoforte abbiamo la maestra Laura Caselucche, ai violini maestro Eccitirelli Fernandez, maestra Vecalina Puccinelli, maestra Anna Ornagolo, maestra Dina Svetta Baudo Riondi, maestra Zorca Lampinesi Patrici, alla viola di maestro Artiglio Palaccio, al parco socrano Marcello, maestro Marcello Marcello, alla prova il maestro Gabriele Favarezzo, ai plaudi il maestro Domenico Pompidio, da lui Castiglio, al parco socrano Marcello, al mio recetto, il maestro Divya De Romanis, al contrapasso il maestro Fabrizio Bussolano, alla professione Fabio Seranti e il maestro Fabrizio Bussolano, con la partecipazione del maestro Donato Di Donato, il mentore dell'Interventional Music di Roma, alla chitarra. Grazie.